Chi ha ruoli rilevanti sulla scena pubblica, chi svolge un mestiere impegnativo come il mio, quello di Presidente di una grande regione, è esposto a quei controlli, a quegli accertamenti che sono nella competenza dell'autorità giudiziaria. La separazione dei poteri è un fondamento della nostra democrazia e credo che chi è potente debba sempre avere un atteggiamento di ossequio nei confronti di quei principi che sono l'indipendenza, l'autonomia del potere giudiziario. Il potere giudiziario controlla, talvolta ha bisogno di verificare in profondità i comportamenti dei pubblici amministratori, quindi da questo punto di vista non mi lamento del fatto che ancora una volta mi tocca una prova dolorosa, ma che vivo con la serenità con cui ho vissuto e superato tutte le altre prove in un passato ormai recente. La Procura di Taranto mi ha iscritto nel registro degli indagati per un reato che se fosse dimostrato sarebbe particolarmente infamante. Io voglio dire a chi mi vuole bene, anche a chi mi combatte, che credo di avere non soltanto la coscienza di non aver operato in spregio alle leggi, ma di aver nel caso di Taranto provato a capovolgere una storia anche omertosa nei confronti di un potere reale come quello della grande industria e del suo riverbero in termini di inquinamento, di asfissia per una comunità come quella tarantina. Ho operato con orgoglio, scoperchiando una pentola, non avendo nessuna soggezione reverenziale nei confronti di Emilio Riva. Ho sfidato talvolta in solitudine quel potere, imponendo alla mia regione la prima legge anti-diossina, la prima e più severa legge anti-benzoapirene, la prima legge esistente in Italia sulla valutazione di danno sanitario. Abbiamo veramente sfidato un gigante che era vissuto dalla comunità tarantina come una sorta di occupazione militare. Andremo dal magistrato a rispondere alle sue domande, a spiegare le nostre condotte. Personalmente lo farò veramente con grande serenità, perché ho fiducia assoluta nella giustizia. Non potrei vivere se non avessi fiducia nella giustizia e ho, diciamo, consapevolezza del mio operato. Credo che quando si abbia rispetto per la legge nel senso più pieno, si debba anche talvolta sopportare il peso di un dolore e di un'amarezza, come oggi tocca a me. Questo peso, questo dolore e questa amarezza mi devono soltanto irrobustire nel convincimento profondo che ho che la politica ha il dovere di avere comportamenti lineari e la giustizia ha il diritto di andare a controllare la linearità di quei comportamenti. Altro non posso dire, il resto appartiene all'interlocuzione con la procura di Taranto. A quelli che mi vogliono bene e a quelli che mi combattono, vorrei dire che posso aver commesso errori politici, ma non credo di aver mai commesso sbavature o addirittura di aver ferito la trama delle leggi. Sono stato educato al rispetto sacrale della legge e della legalità e penso che questo sia il senso intero della mia vita.